Elvira Serra, medico ed ex vice sindaco della città di Agropoli, è intervenuta su Cilento Channel parlando del nuovo decreto dell'epidemia da Covid-19 e delle sorti dell'ospedale di Agropoli. Per il decreto, afferma, tutti noi ci aspettavamo che potessero riaprire tutte le attività, ma non è stato così. E allora mi chiedo se queste attività riusciranno a mantenere il del locale per un altro mese, se ci saranno delle difficoltà difficili da sostenere. Per quanto riguarda il contagio c'è bisogno di fare molta attenzione, perché il virus è ancora in agguato, c'è il rischio di un maggiore aumento di contagi, per cui bisogna fare molta attenzione e non uscire senza mascherina, stare molto attenti al distanziamento sociale e mantenere una rigorosa igiene. Ad ottobre si attende una seconda ondata, in quanto i virus col calore scompaiono e poi in autunno ritornano. Sicuramente l'ospedale di Agropoli verrà attivato qualora vi fossero presunti contagiati. Tuttavia, troppo spesso noi utenti ci siamo fatti zittire e trascinare in un mondo dove c'era solo la politica sanitaria. Non riusciremo mai a ripartire bene se prima non regoliamo il sistema sanitario di tutta la regione.